Una notte incancellabile dalla memoria di tutti, dieci anni fa, tra il primo e il due giugno, un ragazzo di 17 anni, Lorenzo Guarnieri, fiorentino, venne ucciso da un motorino guidato da un uomo sotto effetto di alcol e stupefacenti. Da allora, grazie al coraggio delle famiglie di Lorenzo e genitori Stefania e Stefano con Valentina, è nata una grande battaglia per una maggiore attenzione ai temi della violenza stradale, culminata con la nuova legge sull'omicidio stradale. Quella legge è stato un risultato importante. Con un post sui propri canali social, Matteo Renzi ha ricordato l'anniversario della morte di Lorenzo Guarnieri. Dopo dieci anni, tutti a Firenze, grazie alla battaglia dei suoi genitori, conoscono Lorenzo. È nata l'associazione che porta al suo nome, che ha l'obiettivo di ridurre gli incidenti stradali, e ha condotto la battaglia più importante, quella della raccolta di firme per una legge di iniziativa popolare per l'introduzione dell'omicidio stradale. La giustizia è un elemento importante per le vittime, perché chi ha ucciso Lorenzo è stato condannato a due anni e otto mesi. Fino a quel momento si parlava solo di incidente, non di omicidio stradale. E questo fatto da un riconoscimento dell'essere stato vittima. I lutti per violenza stradale sono i più terribili, aggiunge Stefano Guarnieri, perché hanno quattro caratteristiche, coinvolgono quasi sempre giovani, sono improvvisi, sono violenti, ma soprattutto sono evitabili.